Ciao a tutti Cooj, ben ritrovati da vostro, andrini in Cromantuno su Sonic Forces Chiedo scusa per la voce con la quale sto registrando ma influenzato malissimo quindi insomma sono un po' giù però Bisogna continuare comunque sia a registrare perché nonostante avessi promesso due video al giorno non riesco a farne quasi neanche uno quindi è meglio che ci diamo una mossicina Dunque la prossima fase è la fase 10, si torna a Green Hill Il mostro di Eggman l'ha preso Ma ci sei tu ora Il mondo ha bisogno di un Sonic Un Sonic qualunque per mantenere Quindi ora siamo con il Sonic classico Se sconfiggiamo Eggman questa guerra avrà fine Eh si E se riusciamo a scoprire il segreto del suo potere potremo riportarti a casa Ehi il sensore ha rilevato Eggman sbreghiamoci Ok Ah questa è la Green Hill classica quindi Bene 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 Eh con la musica però è diversa Qualcosa non mi riporta Ciao Dio sempre in momento sembra la Green Hill che tutti quanti conosciamo nel primo Sonic Oh eh ecco lì i pescetti Sì 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 è questa Quella ape Sì sì Ah questo solito non me lo ricordavo però Io ho giocato tantissime volte la prima Green Hill nel primo Sonic Però non mi ricordo nulla Bello È davvero una bellissima cosa Ok qua Ah ecco ecco sì infatti mi ricordavo che c'era Il Jump Il Jump lì Ah e sono un c***o perché lo sapevo che andavo a cascare qua Questi salti così mi fanno sempre cascare Ok sì Per un attimo ho pensato di non farcela Ovviamente Green Hill è un po' diversa questa Green Hill Abbastanza diversa per il momento Ah no aspetta sapete che faccio Non mi interessa fare il tempo buono Intanto preferisco prendere l'invincibilità Vedo del deserto laggiù È Green Hill giusto? Sì è Green Hill Allora Aspetta che diavolo No ragazzi qua C'è qualcosa che non mi riporta Ah ecco non riuscivo a capire dove Dove andare Accidenti È un po' diverso dalla Green Hill che conosco Dire è vero Aspetta No so di poterlo fare No non si può fare Niente È diverso allora da quella classica Vabbè Oh mio Dio ma da dove spunta questo? Vai qua va Ah è già aperto Non si deve rompere A parte che era sotto ma Era già aperto Marca miseria È molto meglio di Green Hill questa È più lunga Mi piace Ho provato a saltare Nello stage Del primo episodio Credo fosse Credo fosse il primo episodio E ho provato a saltare Mentre prendevo Il Il cartello Di fine livello Però non mi è dato nessun bonus Quindi Ho evitato in questo video Completa la fase 10 Con il grado S Sì Un po' me l'aspettavo Le missioni ne ho fatte alcune Off screen O meglio L'ho viste Non è che l'ho fatte E però Nulla di che Non mi interessa farle Per il momento in game Lo so che non sono Sono a tempo alcune Però non mi interessa farle Farle mentre gioco Per il canale E con questo L'eliminazione Del prototipo Del rubino fantasma È completa Era un modello Difetto Registrava soltanto Il DNA Di chi lo attivava Solo un essere Con la mia forza Di volontà Potrò mai attivarlo Non importa ora Il laboratorio È isolato A Mystic Jungle A proposito Non ti sei imbattuto In Sonic Dopo la sua fuga Sì Ma non aveva Speranze Contro di me Non è una fonte Di preoccupazione Quindi L'hai lasciato vivere Questa è una grande Fonte di preoccupazione Per te Forse Vi sconfigge Da decenni Io invece L'ho battuto Al nostro primo incontro Prototipo Del rubino fantasma E Sam Ma poi c'è perso Cioè Inutile Cosa c'è Niente Andiamo avanti Con le orecchie che c'ha Voi ci parlate pure Ma certo E alla fine La resistenza Sarà annientata Il mondo Non sarà Alta che c'è Da cui finalmente Si ergerà La gloriosa Eggmanlandia E la resistenza Si piegherà Al potere Del rubino Fantasma Saranno Tutti Sottomessi Cosa? Tu? Non ho tempo Per te Ok Quindi devo sconfiggere Eggman Ora No No Questo potere Supera persino Le mie aspettative Mi spavento Da solo A volte Ciò vuol dire Che hai sbagliato i casi Per me Significa fallire Superare le aspettative Indice di genio Supremo Ma non mi aspetto Che cosa capisco Ecco come un idiota Ci sono andato Proprio dentro Ma come Mi spieghi Come faccio Evitarlo La cosa buona È che gli anelli Mi rimangono Un pochino Più a lungo Dai Prendili Cavolo Si Ha perso Quindi Oramai Oh Un metro 35 secondi Beh Sono abbastanza veloce Come lotta Non mi posso lamentare Però ero molto concentrato Quindi non riuscivo a parlare Egggrado S Beh Quattro anelli Si Che poi dopo Quando capisci Come funziona Che ti basta Saltare Per distruggere i blocchi Che lui ti lancia Allora Diventa più facile Una catena Quella la metterei Sinceramente Quei guanti Non l'ho mai Sopportati Sinceramente Che bello Vedervi lottare Come se aveste Una chance Siete così Adorati Quasi Quasi Mi dispiace Che non potremmo Più fare Questa specie Di balletto Insieme In sole Tre brevi giornate Il mio piano Eliminerà Tutti Voglio essere irritante Aspetta Tre giorni E quale piano Se te lo dico Non è più una sorpresa Sai come si dice Che l'attesa Della fine È anche peggio Della fine stessa Forse in questo caso No Wow Ma che si fumano Cioè i cattivi Dei videogiochi Io non l'ho mai capiti Sinceramente Come SOS Allora Vai subito Alla fase SOS Nelle missioni SOS Verdi Usa l'Avatar Nelle rosse Usa l'Avatar Nelle SOS Blu Usa Sonic Moderno Sonic Classico O l'Avatar Proviamo un po' A farla Non lo so Non capisco il motivo Però Stiamo lasciando il pianeta Incontra Eggman Riceve un billetto Di sola andata Per me Io qui Non ci resto Non c'è niente Su cui corra Vediamo un po' Come si svolgerà Questa missione Di SOS Si missione fallita In effetti Proprio Ho premuto una volta Ma lui ha slittato Come non ci fossero domani E quindi Il SOS Se n'è andato Ma andiamo Alla città Park Avenue Perché Spina? Perché sono una Spina del fianco? Non è molto carino Da parte loro Facciamo un po' Park Avenue Vediamo un po' La città Non sarà Non sarà quella della demo Sembra ancora della demo Sembra Non ne sono sicuro Però Wow Dove raffrontare qualcosa? Ma dai Ma se gli ho sparato Non va Non va Non lo so Si ce la posso fare Ma perché non Non so dove arrampicarmi Ah Eccolo Aspetta Non mi ricordavo Il pulsante Ottimo lavoro Perfetto e avvilità Ora si che hanno capito Che comanda Bene Ora come faccio A fare di più Maledetti Vai Wow Dai però Che cavolo Ma lo fa apposta? Secondo me lo fa apposta Ma premo Del pulsante Eh Meno male Ce l'abbiamo fatta Accidenti Oggi è proprio Una giornata Non ti aspettavi Che me lo aspettassi Però questi Alcuni quick time event Te li fa fare In automatico Il computer Oh mio dio Pensavo di cascare Verso la morte Però ci siamo Continua a sparare Non si sa mai E infatti Mi è andato male Senti Ma perché Non ti aggrappi Subito Ooi Mai fidarsi Del nemico Ok Finita Oggi Non è giornata Per Sonic Mamma mia Sto facendo Una partita pessima Usa un Wispon Fiamma In una fase Avatar Beh Era anche Abbastanza Ovvio Ok Facciamo anche La prossima fase Oh Ok Si doveva Cavaliere Veramente notevole Ma abbiamo ancora Molto da fare Ottimo lavoro Sapevo che ce l'avresti Fatta Ci vuole fiducia In se stessi Complimenti Ma la prossima volta Meno eroismi Se no io che figura Ci faccio Tu vattene Vector Che vuoi che ti dica Casino forest Casino Ok Facciamo anche Questa qui Con Sonic Classico Non mi dispiace Giocare con Sonic Classico A dire il vero Però Insomma I livelli che si fanno Col moderno Sono abbastanza Dinamici Secondo quanto ho sentito Sonic Dovrebbe essere qui Fa strano Chiederti di andare A cercare Ah ok Devo caricare Pinball Come Non ho idea Di come funzionassero Ho premuto Tutti i pulsanti Ma non ha funzionato Neanche uno Se ce la facciamo Andiamo di qua Va Pensare che non facevo Oltre che giocare A 3D pinball Sul Su Windows XP Pensare che Non riesco a farlo qua Non è che fa ridere Fa piangere Quanta roba Ma quanti punti Faccio Oltretutto Ma da Non ci credo Quanti sono le possibilità Quanti sono le possibilità Su un milione Non va Non mi dica la X Non è la X Ma sono due pulsanti Ma sono due pulsanti Insieme No E' la B E' la B Perché è la B Dove devo andare Fatemi capire Non so dove devo andare No ragazzi Non si capisce nulla A sto livello Oddio Non lo so ragazzi Cioè può essere coloratissimo Bellissimo Ma Ma non so dove andare Oh scompari Scompari Ok No fammi andare lì No Prendevo una vita Forse Quanta roba Quante monete Addirittura Rango S E' medaglia d'oro Come Ma che cos'è Quello Una maschera Ottieni d'oro Con avatar lupo I miei ragazzi Sono Sono allibito Cioè E' andata bene Come missione Nonostante Abbia fatto abbastanza schifo Quanta roba Mi sta dando Su Eh Wow Non me l'aspettavo Un grado S Sinceramente In questa missione Andata bene Però Fase 14 Misty Jungle Acqua Road Prison Hall Facciamo un po' Un attimo Sto SOS Se ce la faccio SOS Devo farlo Con il mio avatar Sembra che fosse Con il mio avatar Partiamo Lo vediamo Sì No con shadow Shadow Asteroide Beh No sono io Ma perchè mi ha cambiato L'avatar Sì Ma mi ha cambiato L'avatar Mi ha cambiato Perché Perché me l'ha cambiato Chi ha ordinato Non ho idea Ecco Riprova Missione fallita Riprova Non riesco a fare Oggi proprio Non sto giocando Fatto bene Sarà l'influenza Tu fai schifo Sempre Faccio un'altra Fase Poi dopo Lo termino Perché davvero Sto proprio Giocando malissimo Meglio Calmarsi Quello dove Sonic Ha affrontato Infinite Probabilmente È uno dei robot Di Eggman Segnali di vita Sono due Quindi di certo Non robot Ehi spina Vai al laboratorio A controllo Tocca a me Tocca sempre Come è giusto Che sia Poi ho un nuovo Potere Ho Non mi ricordo Come si chiama Asteroide Sì Asteroide Posso Posso attaccare Più nemici Contemporaneamente Vai Dove stiamo andando Oh mio dio E ho notato Ok Sono andato Da un'altra parte Poi ci ritorniamo Ah quindi Devo solo fare così Devo solo andare Mio dio Ma Ma mi hanno Sbettuto fuori loro Ma neanche un checkpoint Non posso neanche saltare Sì ma Mi buttano fuori Emi Non hai capito Eh già Già che sto per cascare Per conto mio Su Ok Ah Meno male Vai Vai Grande No Sì ci sto provando Attenzione Un urlo poco virile Lo so Mannaggia Che culo Uuu Non ho parole Davvero E' stato Wow Ma E' cristallo di Infinito Ci conosciamo Per caso Sonic Davies Ero così preoccupato Pensavo che fossi Ti preoccupi troppo Guarda Sono tutto intero Non ti vedevo da intere generazioni Stai bene? Non ho toccato nulla La buona notizia è che tu sei salvo La cattiva è che Eggman ha detto di avere un piano Che distruggerà tutti noi In tre giorni Tre giorni eh? Beh possono succedere molte cose Eh? Cosa è successo? Ah Siamo al 14% Wow E' sbloccato una fase segreta Puoi giocare in cannone di fuoco 1 No Per questo video La termino qui Voglio vedere una cosa Prima di finire però Voglio vedere se la scena E' proprio così Perché mi sembra Si è tagliata di netto Ci conosciamo per caso? No Si taglia proprio così Va bene Allora QG direi che Per questo video è tutto Nel prossimo Continueremo a dare la caccia A Eggman E i suoi scagnozzi Distruggeremo Faremo un po' di casino Proveremo la fase segreta E Io come sempre vi ricordo Che in descrizione C'è il link per Twitter E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E ci vediamo Speriamo domani Con un nuovo video Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti